Probabilmente pensavano o pensano che ad Agrigento deve venire Polifemo o il gigante Golia perché realizzare degli impianti per tenere le persone all'ombra dell'altezza di 7-8 metri non può servire certamente per persone come noi che siamo ambiamente sotto i 2 metri. È un modo come un altro per creare disastri, per sperperare il denaro pubblico, per creare disagi alla circolazione impedendo ai pullman di posteggiare in questo luogo. Ovviamente il progettista di questa follia è ancora una volta il solito ingegnere Vincenzo Rizzo. Io non voglio darla addosso al sindaco Zambuto che queste cose le ha ereditate però non posso fare a meno di esprimere il pensiero di tutti gli agrigentini che si tratta di uno spreco di pubblico denaro, di un disastro economico permanente che andrebbe evitato. Guardate appunto l'altezza di questi pali e ognuno di voi si dia una spiegazione a che cosa servono queste strutture se non a pagare progettisti e soprattutto imprese fornitrici. A proposito, se la mitologia ci dice che Polifemo stava a Catania ad Agrigento non è mai venuto, quindi realizzare questi affari di 8 metri per fare ombra è proprio totalmente inutile. Mentre lì al Biameldanno la strada è stata realizzata in modo scosceso per questa ragione diventa una piscina quando piove.